E' troppo veloce. Sala preparati perché noi ci stiamo allenando e siamo in due su un tapiru run e abbiamo un'ocoreografia che è fortissima. Facciamo veramente... oddio non ce la faccio più. Faremo divertire tutti quanti Sala. Anche a te ti faremo divertire. Fa proprio fatica, non riesco a stare via. Sei pronto? Ciao a tutti!